Sono contento perché fare un gol in questo stadio davanti a un pubblico del genere è veramente molto bello, anche l'anno scorso ho fatto due gol, anche l'anno precedente, due anni fa ho fatto due gol, quindi qua è stato un po' diverso perché dopo il gol vedere tutta la gente in curva è veramente un'emozione. Modena oggi ha giocato davvero una gara di spessore soprattutto nel primo tempo? Sì, abbiamo cercato di tenere la palla, di girarla, di non andare subito a fare gol, abbiamo girato, quando c'era il momento di andare in porta siamo andati.